Deve far fronte all'assenza il mister Sottili per l'ultima gara del genone di Andata d'Olbia. Non sono stati convocati Arcidiaco e Ianga, ancora infortunati, così come Soligno e Moscardelli, squalificati. L'idea in Casarezza è quella di un 4-3-3, sfruttando al meglio gli uomini a disposizione. Ecco quindi Benassi tre pali, con la difesa formata da Masciangelo, favorito su Luciani a destra, con Milesi e Sirri centrali e Sabatino a sinistra. Confermato il blocco del centrocampo con Corradi, De Feudis e Foglia. In attacco c'è solo Polidori per il ruolo di punta centrale, che sarà quindi supportato sugli esterni da Bearzotti e uno tra Grossi e Derpen. La trasferta in Terrasara vale gli ultimi tre punti del girone di Andata della stagione. L'Arezzo sarà accompagnato in questa trasferta dai propri tifosi circa una quarantina, tra cui gli Ultras Arezzo, che proprio nella giornata di sabato festeggiano i loro primi 21 anni in giro per l'Italia al seguito dell'Arezzo. Il regalo migliore, inutile dirlo, sarebbero i tre punti.